Caricamento è sempre la parte più peggiore Villona No? Pensavo mi seguissi? Smettila di capire, guarda! E ragazzi, come va? Io sono Feriniki Tanti auguri a me Tanti auguri a me Tanti auguri a te Tanti auguri a me Spettacolare, spettacolare Questa prova di canto è stata bellissima Non ti presenti neanche oggi Inizi così Volevo fartelo io, mi hai interrotto Sei una persona terribile Io ho detto appena finiamo l'intro gli faccio gli auguri Così tutti glieli possono fare E invece mi hai interrotto E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph E che stai giaccheremo a Youtubers E andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Goku, The Tiger, Illuminato Confermato, Vincenzo, Player Girl e Conan Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione E siamo pronti per cambiare casa Perché sì, oggi andremo a cambiare casa Esattamente Prima di farlo però abbiamo teorizzato che dobbiamo entrare nel network più grande Perché ancora, guardate, risulta ancora grigio Secondo me è l'unica cosa che resta Ormai abbiamo anche il milione di iscritti Quindi sinceramente non mi sembra che ci sia altro Esattamente Quindi allora dobbiamo andare qua E dovremmo cambiarlo con questo Widebands Benefici, guarda, ci pagano 2 dollari e 50 Per mille visualizzazioni Il copyright però L'hanno cambiato Rimane al 90% Quindi hai comunque un po' di rischio Ne abbiamo i tre obiettivi 300.000 views Li facciamo con un solo video 20.000 iscritti Facile, facile Però vedi, dobbiamo partecipare a una festa VIP E a tre di questi business club Quindi dobbiamo stare attenti Diventa difficile Però ne vale la pena Perché ci pagano tantissimo Sì, dobbiamo stare attenti Perché altrimenti ci buttano fuori Penso che appunto questi obiettivi Siano messi lì per quel motivo Esatto Guarda tutte le persone che ci sono Stagliana Guarda Non lo sapevo che era nel migliore dei network A lei è proprio una youtuber famosissima Allora Non so quando registra Perché è sempre in casa Però è famosa E talmente brava Che tu non la vedi neanche registrare Esatto Brava Dovremmo imparare da lei Sì, sì, assolutamente Anche Doiana fa parte del nostro network Non ci aveva mai detto nulla Bello, sono molto felice Almeno siamo nel network Ok, ok Leggi, leggi, leggi Finalmente sono entrato nel miglior network La mia prossima sfida Era di diventare il miglior youtuber nel mondo Ok, vabbè Let's calmiamoci Serenichi un attimino Con il supporto di questo network E dei miei collaboratori Il fallimento non è un'opzione Ma se volevo farcelo Avevo bisogno di più persone Al mio comando Quindi vedi Possiamo cambiare casa E assumere un collaboratore Stai qua Stai dicendo Cosa? Che ci manca Armani Lo stai dicendo anche lui Che lo rivole indietro Dice che senza di lui Non ce la possiamo fare E dobbiamo recuperarlo infatti Magari ora che ci vede Nell'appartamento Infatti guarda Abbiamo la casa illuminata Dicevo Ora che ci vede nel palazzo di lusso Magari è più propenso a tornare Vediamo, vediamo Dai che sono curiosa Sì 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 Clicco Vai E muoviti dai Non farla lunga Voglio fare un po' di suspense No 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 Attenzione Attenzione Il caricamento è sempre la parte più peggiole Papapapapapavilona No? No Pensavo mi seguissi Smettila di capire Guarda La piscina Abbiamo la piscina Oh mio dio è bellissima Per affogare testa Giusto 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 Affogheremo testa Finalmente faccio parte del Minion Network Mi sarà sicuramente di grande aiuto Per arrivare alla fama E al mio obiettivo finale Diventare lo youtuber numero uno Nella classifica di YouTube Devo fidarmi a questo network E soddisfare tutte le loro richieste Se lo sta iniziando a dire Quindi dobbiamo stare attenti Evidentemente Magari ci spiega un po' tutto Senza farlo ci buttano fuori Senza farlo ovviamente ci buttano fuori No non ce lo spiega Non ci ha spiegato nulla Pensavo ci spiegasse qualcosa sul business club No dovrebbe essere scontato Capito Lo sappiamo Facciamo finta di saperlo Ti voglio far vedere una cosa Prima di esplorare la casa Ok Noi metti ti faccio vedere questa bella fontana Guarda il prossimo obiettivo Diventa il numero uno Sogna in bar Proprio poco Stereniki E' uno che si accontenta Allora ha iniziato YouTube per passione Perché gli piacciono i videogiochi No per diventare il numero uno di YouTube Ha un po' di manie di protagonista Ma vabbè Ci piace così Stereniki Ci piace così Assolutamente Esplodiamo la casa Dai Esplodiamo la casa Allora E' gigante Qua il frigo gigante finalmente Piscina non ci possiamo notare Il frigo finalmente abbiamo un frigo ragazzi Avevamo sempre quel mini frigo Anche nelle case bellissime Ah qua dobbiamo fare una scelta Nega Uhu L'ho beccata Eh stai attento Adesso che siamo nei network importanti Dobbiamo fare sempre le scelte giuste Esatto Allora questa è la cucina Ok Ok aspetta che stiamo pubblicando i video Perché comunque Non è che tu Tu ti trasferisci e smetti di fare i video No Siamo YouTuber bravi Dobbiamo anche pubblicare i video Dicevamo frigo Cucina bellissima Piscinetta qua molto carina Questa di chi è? Questa è una postazione Perché ormai non le riconosciamo più Sono tutte uguali Eh no sono tutte uguali Allora vediamo E' la nostra E' la nostra perché la tastiera noi siamo ancora con questa Esatto hai ragione Quindi questa è la nostra stanza Ok Guarda a faccia alla piscina Ma è bellissima Abbiamo il nostro bagno E la camera da letto vicina Cioè vedi Che abbiamo una specie di parte privata Quindi tutta questa parte della casa è nostra Ebbè giustamente Abbiamo tutta un'intera area Guarda dove hanno messo la coppa adesso E guarda il mini frigo che ci segue sempre e comunque Non ce ne liberiamo ragazzi Non c'è modo di liberarci di quello frigo E chi sa dove sono finite tutte le altre decorazioni che avevamo Eh le mette un po' ovunque secondo me Allora qua sarà la stanza sua Ebbè guarda è già qui dentro Piazzato E' felicissimo Sta già ballando da quanto è felice Anche lui ha il suo bagno privato Quindi questa Questa è la postazione in più E' buota E guarda sono tornati gli strumenti E c'è pure l'adesivo Bellissimo Questo è molto molto carino C'è la postazione di Chi manca? Azaria Azaria Ok Penso proprio che ci sia la sua C'ha rubato lo schabello Guarda C'è l'ha rubato Questo è nostro Se l'hai messo nella sua stanza Magari lei piaceva Dai lasciatelo prendere Bellino però mi piace Mi piace La catana La catana La catana Vabbè ascolta Ho una teoria Non è colpa loro Si sono tutti spostati gli oggetti Che teoria hai? Ho una teoria Lei è la gemmella di Tessa Tessa ruba i collaboratori Lei ci ruba le decorazioni Le decorazioni che ci piacciono Sì Io le spacco la faccia Ma siamo pieni di soldi Poteva prendermi tutto Tranne le catane Ti puoi comprare quello che vuoi Ascoltami Questo ce l'ha regalato Diana La nostra mogliettina E ce l'ha rubato Ok Questo rappresenta la nostra infanzia Quando giocavamo a calcio Ma non è vero E ce l'ha rubato Il tavolino che usavamo tutti i giorni Per le bevande Sì guarda Basta 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 Non usavi altro che il tavolino Esatto brava 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 Comunque ho notato che abbiamo un balcone bellissimo Almeno stavolta abbiamo Per prendere il sole Una vista E poi ci tuffiamo dal balcone in piscina No non si possono fare queste cose No Dicevo che abbiamo una vista spettacolare E allora sai cosa manca Ok Abbiamo visitato la casa Siamo fighissimi nel network più importante Ok Guarda cosa manca Il quarto collaboratore Quarto terzo 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 Quarto 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 La quarta persona Allora aspetta Terzo collaboratore Quarta persona Mi hai intrippato tantissimo Anche ho visto quattro iconcine E mi è venuto a dire quattro Vuoto Comunque volevo dire che era vuoto Ok ok Ormai hai perso l'enfasi però Perché quel posto appartiene ad Armani No sto continuando Perché sono davvero triste io per Armani Ok Sì Quindi direi Di provare a parlarci No Perché? Perché ho pensato una cosa Siamo andati nella nuova casa Siamo fighissimi Non possiamo vi avere una postazione Più brutta degli altri due Dobbiamo aggiornare il computer Voglio qualcosa di ancora migliore di loro Ok Ok sono d'accordo Qualcosa ce l'abbiamo Prima lo shopping Poi le amicizie Così no? Oddio TLO superhero case Che cos'è? Ma sembra Lo prendiamo Sembra una spazzatura La vedi? Sembra un cestino Della spazzatura 3000 dollari Vai Boom Sembra bello Vero che sembra bello Tastiera Ok quella che hanno loro Va bene Monitor Questo non ce l'ha nessuno di loro Quindi lo prendiamo Ascolta lo proviamo Perché noi dicevamo che era simile a un portatile Ma bisogna provarlo Esatto Il mouse ce l'abbiamo già No il mouse ne abbiamo questo ancora Ok da dove arrivano questa volta le cose? Dal cielo Ok No dalla porta di ingresso Finalmente non arrivano più volando Fammelo vedere un attimino Ma è proprio brutto Cioè anche visto qua è davvero terribile Cosa avete pensato? Cosa avete pensato con questo case? È terribile Paghiamo di più ed è più brutto Tastiera Sto aspettando perché voglio vedere il nuovo monitor Sono troppo curioso del nuovo monitor Attenzione Ecco Com'è bello Guarda Non è vero Mi piacevano più i tre monitor In effetti non è un portatile Vedi a questo effetto così Finalmente si ragiona Un po' di capello Aspetta 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 la proposta del network Un attimino e ci rompiamo quello che stiamo facendo No compriamo un cappello perché è più importante Poi accettiamo la proposta del network Quale vuoi? Quello di Pikachu Pikachu per forza Pikachu Eskimese per forza La maschera da wrestler per forza Per forza E poi questo Io voglio anche quello su Quale? Su Questo da cricetto Lo sapevo Ho cercato di far pinta che non ci fosse Ma sapevo che tu lo volevi Lo so ma lo sai che io voglio tutto Ok Accetta Non ho neanche letto quando è Ah no ci stanno inviando Ma non abbiamo letto nulla Perché hai cliccato subito? Perché pensavo fosse Guarda Una wall true di quel gioco Entro il 5 ottobre Ok la facciamo subito Così non ce ne dimentichiamo Oh mio dio Rey Mysterio Rey Mysterio del wrestling È bellissimo È bellissimo Aspetta Ma che cosa stai combinando? Vestilo bene Ti prego Ma dove stiamo andando poi scusami? Ad un evento Ah non l'hai messo tu a cambiarsi? No E tu stai andando un evento vestito in questo modo? Sì Ci hanno invitato a casa Ma chi è? Sì 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 Allora Byron Ci ha invitato a casa sua per registrare un gioco Video di aiuto Ma che cos'è questa cosa? Credo che sia quella cosa a guest star che abbiamo messo l'altra volta È vero Che ci chiedevamo come Ah ma pensavo che saremmo andati Mi son gasata per nulla Anche io Dicevo che l'abbiamo messo l'altra volta non sapevamo cosa fosse Ma io credevo Vabbè Basta Basta Mi sarebbe piaciuto andare a vedere la casa di qualcun altro Poter partecipare in qualche modo Invece non si vede nulla Va bene Uuuuh Allora Grazie mille il video è fantastico I miei amici pensano che tu sia figo E ora hai 65.000 nuovi iscritti Abbiamo guadagnato Non sono riuscita a leggere Però abbiamo guadagnato anche i soldi Ok sono deluso che non siamo potuti andare a vedere Cioè va bene come cosa Paga bene Ci paga un sacco di iscritti E ci paga anche soldi Quindi va benissimo Quanti video ha fatto lui Ne ha pubblicato due In una sola volta Allora ragazzi abbiamo un obiettivo importante Dobbiamo fare una wall through di questo gioco Entro il 5 ottobre Altrimenti ci buttano fuori Quindi questa cosa è importantissima Pubblichiamo anche il suo video Io direi che è meglio cambiarci Perché secondo me non veniamo presi Non puoi registrare vestito in quel modo Esatto Allora cambiamo gli abiti un attimino Metti lì quelli più carini che li abbiamo comprati Così ci vedono poi vestiti pure bene Facciamo subito una bellissima impressione Va benissimo Va benissimo Sfortunatamente questo mese ci hanno cacciato dal network Per quale motivo? Non lo so Credo Stavamo anche registrando il gioco È colpa del business club Colpa del business club Non riusciamo a partecipare al business club No non ho capito cos'è il business club Cioè cosa bisogna fare Se andare a un evento Comprare qualcosa Non l'ho minimamente capito Anche perché la traduzione non aiuta Non si capisce nulla Esatto Quindi non lo so È un problema Non riusciamo a stare nel network Sono tristissimo Ce l'ho felicissimo del network Ed è già finita la nostra felicità Ci hanno bannati Abbiamo pensato Ci rientriamo questo mese Riproviamo a fare le cose E risultiamo bannati Cosa vuol dire questa cosa? Cioè è finita per sempre Noi non potremo mai più tornare lì Io non ho parole Cioè se non torniamo lì È davvero un problema Perché come facciamo qui a diventare i numeri uno Se non siamo nel network numero uno Sarà davvero un problema Non lo so Andiamo da Maxinima Che ci ama tanto Sono tristissimo Cioè siamo gli unici qua Vedi? Proviamo a chattare con Armani Sta funzionando Sta funzionando Vediamo Guarda Vediamo Uh sì 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 Uh ha accettato di parlare con noi Guarda come sale la barra Finalmente Sta tornando ad essere felice Io ve l'ho detto ragazzi Cambiando tutto E migliorando tutta la casa Era ovvio che Armani Sarebbe tornato da noi Probabilmente vive Capito Con testa In condizioni terribili Esatto Non lavamo i piatti Secondo me testa è una che non lavamo i piatti Me lo sento Bravo anche secondo me E quindi ha detto Ora che noi stiamo con una casa gigante Una stanza intera tutta per lui Perché la postazione sarebbe La piscina Una stanza intera È ovvio È ovvio Accettato di parlare con noi Dai Armani Vediamo cosa c'è dopo questa barra Perché non abbiamo mai avuto una persona nemica E non ci siamo mai tornati amici Perché di solito i nemici sono per sempre Esatto Però per Armani faremo un'eccezione Ok è stata dura ma non ti odio più Diciamo che mi stai simpatico Ora Eh dai È un passo avanti Quindi Allora Una cosa importante Adesso lui è indifferente Fino a quando c'è odio Non si possono più incontrare agli eventi Esatto Adesso ragazzi Noi andremo a tutti gli eventi Nel prossimo video andiamo a tutti gli eventi possibili Fino a quando non lo incontriamo E ci parliamo Anche perché ho paura di stressarlo Secondo me se cerchiamo di ciattarci di nuovo Poi finisce che la relazione scende di nuovo Esatto Ho davvero paura perché Cioè abbiamo notato che le relazioni sono molto delicate Bisogna stare cauti con calma Fare bene le cose Ma lo riprenderemo Magari ci prendiamo una denuncia per stalker Però riprendiamo Armani Assolutamente Ok ci prendiamo così Quindi nel prossimo episodio Cercheremo di riprenderci Armani E io Ragazzi fateci sapere nei commenti Se dopo che si è bannati da un network Ci si può ritornare in qualche modo Io sono preoccupatissima Cioè dai Dobbiamo rientrare lì Non va bene Mi preoccupa davvero Essere bannata dal network migliore Quindi spero che non abbiamo fatto un disastro Lo spero davvero Come sempre E prima di concludere il video Andiamo a salutare gli altri nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Iris Cat Lady Sylvie03 De Chris Antonio E Cristian Ciao ragazzi Grazie per la condivisione Beh ragazzi Il video è così Se vi è piaciuto Settici un bel like Questa è la prima volta che vedete i nostri video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao